In questi giorni sono fatte diverse ipotesi sulla possibilità che il Governo introduca nuove tasse o riduca le agevolazioni in nome del rispetto all'ambiente al fine di dare un contributo alla battaglia per rallentare il riscaldamento del pianeta. Le associazioni agricole avevano denunciato la possibilità che venga introdotta una tassa sul gasolio agricolo, nel cosiddetto decreto clima. Sulla vicenda interviene con una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Alberto Manca. Voglio smentire queste voci innanzitutto dicendo che il testo del decreto non è ancora in via di definizione, perciò è evidente che tali dichiarazioni siano inattendibili in quanto hanno fondate sui documenti ufficiali, scrive il deputato onorese. L'unica dichiarazione ufficiale sul decreto è quella del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha voluto anticipare il testo dell'articolo 6, che prevede la riduzione dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi attraverso un taglio costante e progressivo negli anni, a partire dal 2020 fino ad arrivare alla definitiva cancellazione nel 2040. Questo processo non introdurrà nessuna tassa e tantomeno una tassa sul gasolio agricolo, scrive il deputato onorese. Al contrario verranno introdotti sussidi ambientalmente favorevili al fine di aiutare gli agricoltori a produrre tutelando l'ambiente. L'Italia vanta le produzioni agricole più sostenibili d'Europa, vogliamo incentivarle, premiarle, rafforzarne la competitività rispetto alle omologhe produzioni estere, ben più impattanti sul piano ambientale. Conosciamo i numerosi problemi che affliggono il comparto agricolo, il nostro obiettivo è sostenerlo e non quello di creare ulteriori problemi agli imprenditori del settore. Vogliamo destinare risorse in ricerca e mezzi che favoriscano la transizione energetica, specialmente nel comparto agroalimentare. Gli agricoltori saranno i nostri primi alleati per la tutela dell'ambiente e per il contrasto ai cambiamenti climatici, conclude Manca.